ciao a tutti amici benvenuti al mio canale io sono moira e oggi siamo su white night nello scorso episodio abbiamo trovato una lampadina che ci ha permesso di fare un po di luce e ora possiamo entrare in questa stanza con molte molte bare e un paio di fantasmi allora questa porta non si apriva no non venire qua non venire qua non mi hai visto non mi hai visto ok questa continua ad andare avanti indietro sulle scale non ci possiamo andare perché c'è un altro fantasma questo non l'abbiamo letto ieri abbiamo seppellito madre mentre tutti piangevano io la maledicevo guardando la bara che lenta scendeva sotto terra era come un oscuro rituale è tornato dove deve stare alla terra non interessa la terra non la teme la terra non ha orecchie per sentire le sue grida né pelle per sopportare le percosse ma di notte nella mia stanza non appena ho spento la candela ho sentito un respiro nel mio orecchio e la sua voce ti salverò ho gridato sarei corso a vedere cosa stesse succedendo gli ho chiesto di dormire con me ho sognato madre tutta la notte camminava per casa con quei suoi occhi ciechi come un lupo attendeva dietro la porta della mia stanza il dottor rosenthal dice che può capitare a chi è in lutto si inventano le cose per me è solo terrore non mi sto inventando niente margaret non se n'è mai andata che cose inquietanti qua avevamo trovato una foto la scorsa volta aspetta che volevo riprenderla eccola qua benissimo infatti qui abbiamo visto che la madre è morta allora ma se io tipo uh è lì ah ok però se sto qua non mi succede nulla non è che tipo posso aspettare che passi no però queste cose no però queste cose ok uh non c'è più ok con calma l'interruttore bene 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 ce l'abbiamo fatta memorandum rinchiuso dopo alcuni spiacevoli incontri con madre ho deciso di sigillare alcune porte sembra che funzioni anche se il suo corpo sfida le leggi stesse della fisica nelle notti più scure era in grado di camminare in giardino quindi ho sbarrato finestre persiane occasionalmente il vento le riapre che situazione ridicola questa casa sta diventando la tomba di un faraone qua ci sarebbe anche un altro interruttore ah eccola oh finalmente abbiamo sconfitto quel fantasma che nello scorso episodio non riuscivo ad affrontare quello sotto la lampadina praticamente ah ed è qua è dall'altra parte ok ho capito ritratte di uomini ero quasi sicuro di aver incontrato alcuni di loro però noi sappiamo già che quella porta è chiusa perché involontariamente l'abbiamo già vista nota di una vittima stimato dottor malloy sono andata alla clinica a trovare james è così debole secondo il medico è a causa dei clisteri di belladonna ha pianto quando mi ha visto mi si è spezzato il cuore chiederò che interrompano il trattamento a breve non sarò comunque in grado di pagarlo ma giuro che in casa non entrerà più neanche una goccia di alcol potrebbe trovarsi un lavoro è successo tutto perché non aveva di meglio da fare andrò a Blake Lake a parlare con suo zio e gli chiederò di assumerlo come cameriere dobbiamo provarci non abbiamo scelta non so cosa mi direbbe ma non riesco a vedarlo in quelle condizioni grazie di tutto un giorno la ripagherò di tutto ciò che le dobbiamo jesse graywood comunque dicevo ah questo si può ok usiamo entrambe le mani ah no ah si invece ok no perché devi sprecarli così li ho finiti comunque ci siamo aperti il passaggio però noi sappiamo già che questa porta in realtà è chiusa infatti oh questo non l'abbiamo letto nascondigli margaret si arrabbia facilmente sogandosi sulle stanze della casa ho dovuto nascondere le chiavi per impedire che le portasse con sé in qualche luogo oscuro lei ha colto l'opportunità per costruire dei nidi vicino ad alcune chiavi a cui ho dovuto rinunciare la sua aura diventa più forte ogni giorno che passa devo trovare una soluzione dei nidi d'accordo comunque dobbiamo solo salire perché questa porta è chiusa indietro non mi sembra ci fosse altro da fare quindi saliamo ah maledizione selena dai sto arrivando selena saliva le scale come una stara sapeva dove stava andando a differenza mia quindi decisi di seguirla speravo in bene ma mi aspettavo il peggio questi ah questi ok li abbiamo già letti la scorsa volta quindi possiamo salire qua ci sono dei fiammiferi per caso uh ci sono quattro fiammiferi grazie scale ah le sale lui da solo va bene fine del capitolo 2 bene abbiamo concluso anche il secondo capitolo capitolo 3 una stella può bastare no però accenditi grazie ero come ossessionato dal ricordo di quella montagna l'avevo già vista da qualche parte sì effettivamente questo quadro si ripete se non sbaglio questo William ed Henry Vesper padre e figlio ah Henry è il padre io ero convinto che fosse tipo un fratello la coppia era seduta dal muro una metafora del loro destino ah era caduta dal muro scusate il crocifisso sembrava più un avvertimento che un simbolo di fede ah vidi un crocifisso sulla porta sul lato opposto delle scale se si trattava di un tentativo di tenere lontano il male beh era fallito questo che cos'è invece crociere Ice Venture il mondo è sempre più piccolo e così anche le porzioni di terra ne esplorate partite con una crociera Ice Venture per un'avventura dove nessuno ha mai messo piede l'artico oddio non è che sia proprio il massimo fare un viaggio in artico un po' freddo però i suoi paesaggi infiniti le notti scure le giornate accecanti appunto cambieranno per sempre la vostra visione del mondo avrete il coraggio di mettere i piedi sui ghiacci eterni navigate nella baia di Buffy di Buffy date il vostro nome a una fetta di groenlanti incontrate gli inuit di Nunavut crociere Ice Venture godetevi l'avventura più temerale della vostra vita al caldo e al sicuro va bene margaret giaceva sul pavimento come se fosse stata degradata qui c'è una sedia qui c'è un'altra bara chiunque avesse disotterrato quelle bara avrei potuto incontrarlo in qualunque momento non dire queste cose dai ma sbaglio c'è qualcosa qui sopra no allora qua ci sarebbe anche una porta che si apre vabbè dai entriamo in questa stanza prima di proseguire nel corridoio uul interruttore accendi selena ma tipo se io mi avvicino piano piano dovevo far sì che mi vedesse dovevo riuscire a entrare nel suo mondo no fiammifero aspettava qualcuno forse me no non mi vedeva neanche selena aspettava seduta su una serie di fronte a un grande specchio fissando il proprio riflesso come se fosse intrappolato fra due mondi il mio arrivo la fece tornare alla realtà cosa stava aspettando mancava forse qualcosa e quindi guardaroba niente selena non ci vede neanche ieri luna mi ha abbandonato un cielo senza fondo ho provato ad aggiustare i cavi in casa ma sono scappato mi rimaneva solo lo smocco sono andato in città per scoprire che selena non avrebbe cantato maledetta sfortuna ho bevuto molto ubriaco mi sono seduto al piano come faccio a casa ho improvvisato un lamento quando ho alzato la testa lei era lì un bicchiere in mano qualcosa è esploso dentro di me ha cominciato a cantare spingendomi a continuare poi ha detto ho incontrato pianisti dalle dita d'oro ma le tue sono fatte di carne il tuo è un tocco umano hai talento abbiamo bevuto tutta la sera hai parlato del passato ha cominciato a piangere non sapevo cosa fare il suo volto attirava la luce come la luna crescente vuole che suoni per lei con lei sono così felice sono fuori di testa ho bevuto troppo e mi sento male lo specchio aveva visto parecchie cose strane un corpo scheletrico era forse un'ossessione una celebrazione della femminilità i disegni erano splendidi in ogni caso oddio che cos'è questo un letto questo che cos'è california di selena sandvik ah che sia la canzone che cos'è questa cosa credo ma sembrerebbe tipo una canzone di qua c'è qualcosa una foto no oddio che cosa inquietante oh mio oddio che cosa inquietante va bene basta io le foto non le raccolgo più qui c'è un'altra porta che si apre bene la famiglia vespre era legata al mondo della produzione tessile ah ecco quindi avevano un'azienda tessile c'erano così tante donne su questi muri vedi selena tra loro i muri della stanza erano coperti di ritratti di donne erano vecchie fotografie forse donne della famiglia oh questa no accendi lì c'è una poltrona per salvare da selena a william il 1936 l'anno in cui scopri il jazz club di harlem il savoy ballroom il radium club il log cabin il cotton club il theatrical grill con ellinton henderson colway hamstrung eppure anche se sto insieme a un uomo di colore non sono una di loro in america i bianchi impiccano gli afroamericani russovelt e il new deal non cambieranno nulla william perché il tuo paese si spara nei piedi per cercare di curare una malattia immaginaria una sera jim mi spinge a salire sul palco sono triste e ubriaca e mi viene da cantare uno steve una canzone tradizionale della mia terra la stessa che ho cantato per te l'ultima volta improvviso sul tema lo rendo molto più jazz e quando finisco c'è molto silenzio sto per svenire mi gira la testa quando l'improvviso il pubblico esplode in un applauso che sembra non voler finire mai grazie a quella canzone hamstrung comincia a chiamarmi piccola stella del nord caro vecchio Lewis e quanto sei lontano ormai ok wow hanno mischiato un po' della realtà con un po' della finzione sono tutti personaggi reali questi e qui c'è una poltrona per salvare quindi salviamo perfetto ho salvato eh no però dai no ne uno solo adesso non so quanto mi convenga andare avanti così uh fiammiferi che fortuna ok comunque io proverei ad entrare in questa stanza visto che la porta si è aperta anche se ah ma siamo siamo tornati nel corridoio o sbaglio questi visuali non mi piacciono non riesco a capire se siamo tornati nel corridoio c'è un interruttore per caso posso avere un interruttore per favore che sento rumori strani oddio quante porte troppe ah si siamo tornati nel corridoio no non siamo nel corridoio oddio dove siamo mi sono persa no chi ha aperto la porta perché è buio via 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 non mi piace non mi piace non mi piace ok niente sapete cosa io tornerei indietro tornerei assolutamente indietro per capire dove siamo più che altro cioè se io continuavo eh ci sarebbero anche dei fiammiferi che mi farebbero molto comodo quegli schizzi di corpi nudi avevano un chiedi surreale ah si questo è il corridoio che abbiamo visto prima dove eravamo prima praticamente ok no dai però dai bene Harry Vesper finalmente in pace questo dovrebbe essere quindi il padre di William cosa inquietante ma è morto più o meno nel periodo della no è morto prima di Margaret è morto qualche anno prima questi me li prendo io grazie no 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 che fa mi segue che fa mi segue ok bene là non ci possiamo andare oh ma Selena dove è andata ah è ancora qua bene questo l'abbiamo letto no non l'abbiamo letto Gima ama il Jets lo ama veramente è così dolce dice che sono la sua principessa della neve siamo a maggio 1936 Gima pensa che la costa ovest non ci basti più il Jets va da New Orleans a New York dove i club impazziscono si balla si canta la festa non finisce mai ecco perché quell'anno tutto cambia Gima dice di amarmi ho 24 anni lui ne ha 15 in più ma non mi importa è il primo uomo che abbia mai davvero conosciuto vuole aprire un ufficio a New York e trasferirsi con me New York ci pensi ma la band non vuole Gets ha un figlio Marcus sta per sposarsi a Bill non piace New York è la fine di Selena ed è Frozen Sons Gima dice che non gli importa il pubblico vuole te e avrà te i miei genitori non vogliono se me ne vado non sarò più la loro bambina ma io appartengo ai miei fan ormai che sia il tipo di cui parlava in uno dei come si chiama dei diari che lei era innamorata di uno dei produttori però non si sapeva molto di questa storia comunque saldiamo visto che abbiamo anche sei fiammiferi allora in quel corridoio non ci possiamo andare perché c'è l'ombra di madre abbiamo visto che se usciamo da questa porta bene o male accenditi bene o male torniamo nello stesso corridoio Selena e sentinelle in moto attendeva che io facessi qualcosa e ho capito ma non so cosa ci sono tante di quelle porte qui che veramente ci si perde ok quello lì è il corridoio da dove veniamo grazie fulmini grazie lampi anche oggi mi sono svegliato di scatto sentivo come un peso sul mio petto le ombre sembravano adensarsi sempre di più spinte dall'odio il suo odio quella maledetta non mi lascerà mai ho provato ad accendere le luci ma sono saltati nuovamente infusibili mentre cercavo i fiammiferi sotto il cuscino ho sentito buon dio ho sentito la punta delle sue unghie sul braccio ho gridato e sono caduto dal letto poi mentre l'oscurità che striscia mi avvolgeva le gambe mi sono ricordato dei fiammiferi che tengo nella tasca del pigiama ne ho acceso uno ed è sembrato che la stanza si gonfiasse tornando alle proprie dimensioni originali non riuscivo più a dormire sono andato in città dovevo fare qualcosa questi momenti di pace sono sempre più evanescenti cosa troppo inquietante di qua cosa c'è? foto? per favore non foto inquietanti vabbè dai un bambino 1904 un altro vespera nel mondo William figlio mio voglio renderti orgoglioso il rettaggio dei vesperi un dono dal passato premiata come azienda dell'anno ah ecco quindi la vespera inca era stata premiata come azienda dell'anno questo è William da bambino beh dai non è poi così inquietante qui libri di scienza nuovi di zecca appena arrivati dalla Germania ok qui c'è un quadro un ritratto a mano libera di un ragazzo questa è la porta da dove veniamo qui invece c'è un'altra porta che si apre e ho notato ora che quella porta è piena di graffi ok se ci sono le farfalle penso ci sia anche l'ombra di madre ecco appunto perché se vi ricordate prima il piano terra qualcuno scrisse un'ultima lettera poi fu la volta della polvere se vi ricordate al piano terra dove c'erano le farfalle c'era anche l'ombra di madre diario di Margaret Harry aveva affondato le dita dei miei polsi non potevo muovermi ho visto Dio nelle sue mani una spada ornata da una stella d'acciaio la paura mi ha lasciato e ho cominciato ad allontanarmi trascinando Henry giù dal letto facendolo cadere a terra la sua testa ha sbattuto contro un vaso mentre gemeva e tentava di fermare il flusso di sangue dalla ferita ho parlato all'oscurità dentro di lui credi di potermi spaventare? non ti temo più se pensi di avere ancora potere su questa famiglia rimarrai deluso puoi avere Henry ma non avrai mai William Henry ha cominciato a piangere gli occhi girati nelle orbite invocando il nome di sua madre Dio mio quanto può essere disgustoso un folle la diagnosi del dottor Rosenthal è di Sifilide in stadio avanzato con tratto Dio sa dove non sono sorpresa mi ha detto di prepararmi al peggio mi ha detto che gli attacchi continueranno non importa non importa altro che il futuro altro che William posso ancora salvarlo la dignità di questa casa con lui è la mia missione non conta nient'altro quindi il padre era un po' aveva questa malattia era malato forse è morto proprio a causa della malattia souvenir dall'Africa un'altra foto inquietante oh mio dio che cos'è che cos'è quella cosa centrale le creature sconosciute celebrano il settimo compleanno di William oddio quello lì sarebbe William da bambino perché no basta io queste foto non le voglio non le devo guardare non le devo guardare perché sono troppo inquietanti basta vi prego e allora è dal primo attacco che non entro nella sua stanza sì quindi Harry era proprio malato oggi sono andata a trovare Harry dopo la preghiera mi aspettava un uomo distrutto avvolto nel tanfo della sua stessa morte l'ho trovato in pace la sua stanza pulita la servitù se ne prendeva cura come di un bambino quando gli ho chiesto come stava a riso il tuo sole è nero Margaret la tua presenza qua è un cattivo presagio gli ho proposto di pregare con me di parlare di ciò che portava nel cuore non si può condividere niente con uno scrigno chiuso ha risposto Dio si apre a te ho detto io non sono altro che un tramite ha cominciato a recitare la Bibbia ora la terra era in forma deserta le tenebre ricoprirono l'abisso aggiungendo così mi appare il mondo ora gli ho detto dice anche che lo spirito di Dio alleggiava sulle acque lui ha riso tu che ogni giorno sei riempita dal suo spirito guardati e dimmi che non è pieno di veleno sono uscita la sua anima è morta il suo corpo la seguirà a breve poi ci sarebbe una candela le candele si erano consumate molto tempo prima dietro al vetro stava raccolta non ho letto stava una raccolta di macchinine e giocattolo non penso possano esserci utili oddio che che cos'è quell'ombra maledizione c'è un'ombra siamo ah questo è un diario di Henry siamo a giugno ma non saprei dire che giorno sia non sto solo impazzendo anche la memoria mi abbandona mio padre mi ha lasciato due cose una delle maggiori imprese di Boston è questa malattia che mi contamina il sangue mi indebolisce e mi tiene lontano dalla famiglia quando mi riprendo da un attacco mi sento vuoto e stanco e so che si tratta solo di un breve respiro prima del prossimo sapere che William mi vede in queste condizioni mi spezza il cuore nonostante gli sforzi per risparmiare questo dolore il suo affetto per me non è cambiato e per questo il mio amore per lui cresce Margaret invece mi trova disgustosa e non fa niente per nasconderlo non è una moglie né una madre è un lupo pronto a farti a pezzi il primo segno di debolezza dotterò alla fine contro di lei il coraggio non deriva da una rigida educazione ma e non è il rettaggio di un passato glorioso coraggio significa affrontare le difficoltà rimanendo se stessi questa è una cosa che non mi manca spero che anche William l'abbia capito oddio sapete cosa? io esco da questa stanza esco da questa stanza e vado oddio la porta è chiusa però oh no bene si apre esco come stavo dicendo esco da questa stanza vado a salvare e ci fermiamo qua per questo episodio allora la poltrona per salvare era qua devo trovare una fonte di luce però il problema è che abbiamo ecco appunto abbiamo finito tutti i fiammiferi è un bel problema d'accordo comunque direi che possiamo fermarci qua con questo episodio nella prossima parte esploreremo con maggiore cura quella stanza molto inquietante quindi ci fermiamo qua lasciate un like e un commento se vi è piaciuto e iscrivete il mio canale noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti